Consueta finestra sugli Stati Uniti a meno di una settimana dalle presidenziali. Allora Claudio Pagliara, buongiorno, grazie, anzi buonanotte per te, per la verità, grazie per essere con noi. Dici un po' che aria tira. Beh, veramente molte cose, ma telegraficamente la questione razziale ha di nuovo fatto irruzione, in qualche modo in questa campagna elettorale, non che l'abbia mai abbandonata, ma c'è stato questo episodio molto grave a Filadelfia, l'uccisione di un altro afroamericano, un giovane di 27 anni, aveva un coltello, ma insomma aveva, soprattutto era malato, era un bipolare secondo la famiglia, la polizia ha sparato e sicuramente il video ha innescato una protesta che irrumpe in una campagna elettorale condizionata, peraltro come sappiamo anche qui, da questa seconda ondata di coronavirus. L'ultimo dato parla di mezzo milione di casi negli Stati Uniti nell'ultima settimana, in una sola settimana, è un record assoluto, naturalmente vedete Biden che ieri è stato in Georgia, uno stato tradizionalmente repubblicano che però sembra diventato in biligo, e Trump che ha risposto dallo stato industriale del Michigan, hanno due ricette completamente diverse, Trump si presenta come l'uomo che vuole rilanciare il paese e che dice a ogni momento che il vaccino è dietro l'angolo, ma sappiamo che il vaccino non c'è, mentre Biden accusa il Presidente di non fare nulla di fronte a una pandemia che ha già portato via la vita a 225 mila americani. E questo è il grande argomento di questa campagna elettorale. Come sappiamo tra una settimana decideranno gli elettori, i sondaggi, tutti i sondaggi danno in grande vantaggio Joe Biden. Grazie.